Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio trattare un argomento un po' noioso. Noioso nel senso che magari a qualcuno scoccerà un po' questo argomento, però secondo me è abbastanza interessante. Mi scrive un mio caro amico, un follower che mi segue, e mi fa delle domande particolari. Più che altro mi pone dei quesiti che mi hanno fatto girare un po' le rotelline in testa in questi ultimi giorni. Infatti oggi vi voglio parlare di un tema abbastanza particolare. dei famosi tori compiacenti. Voi dite, ma qua tori compiacenti, che roba è? Sì, sì, tori compiacenti e anche della mitica zona di comfort del karate. Vai! Allora, sì ragazzi, un mio caro amico mi scrive e mi mette in testa questa cosa, veramente che qualche giorno che mi gira, mi gira, mi gira, le mie piccole rotelline, questi ingranaggi che è, non fanno altro che pensare a questo quesito. Allora, i tori compiacenti. Sicuramente voi ragazzi avete partecipato a stage di qualsiasi genere, con i grandi maestroni dai giapponesi, i grandi maestri di karate in Italia. Anche i vostri maestri sicuramente li hanno fatti, continuate a farli e fate bene a fare così. Ma se ci fate caso, di fronte a questi grandi personaggi, oppure se li vedete sui video, su internet, YouTube, da qualsiasi parte, ormai si vede qualsiasi cosa da qualsiasi parte, vedrete sempre che c'è sempre un tori compiacente. Cioè, cos'è questo tori compiacente? Sì, allora, il classico maestro dice, allora, ok, provo ad attaccarmi con un tsuki destro, provo ad attaccarmi con un tsuki sinistro, provo ad attaccarmi con un maierì, qui, lasso e giù. E sono cose abbastanza, cioè, abbastanza, sono cose, ma sono attacchi programmati, dove il grande maestro di turno è molto facilitato. Cioè, sa che arrivano i tsuki, chiaramente fa la sua mitica parata, controattacco, tutti i suoi numeri, papapapà, e butta a terra l'avversario. Se è già uno più bravo, a livello un po' più avanzato, addirittura non fa neanche partire il malcapitato, ma sa che attacco sta facendo, e lo anticipa, o va a mezzo anticipo, e vince su di lui, e tutti applaudono, mamma mia, quanto è forte sto maestro. Ma, cosa ti voglio dire oggi? Questo qui è un atteggiamento di Torii compiacente, cioè, nel senso che, chi attacca nello tsuki, classico, no? Sista di Lambarai, attacco tsuki, e quello, wow, forte attacco tsuki, ok, Vili va bene, però è compiacente, cioè, sta lo tsuki e sta fermo lì. E l'altro, il grande maestro, cosa fa? Ci gira intorno, fa tutte le capriole del mondo, e diventa un fenomeno. E questa, secondo me, è un po' una cosa che mi lascia, un po' pensare, perché, se ci pensate bene, in una possibile attacco per strada, ma chi è che vi attacco i tsuki? Ma, secondo me, non vi attacca nessuno con uno tsuki per strada, pensateci un po'. Secondo voi, per strada, vi attaccheranno mai con uno tsuki? Allora, perché, quando bisogna fare le esibizioni, oppure si va a vedere le esibizioni dei grandi maestri, tutti si inizia sempre così, si sta che da Lambarai, e si attacco i tsuki. Ma, secondo me, nel mio piccolo pensiero, un grande personaggio, un grande maestro, se veramente è in grado di essere un soggetto del genere, si deve mettere davanti a un possibile studente, o chi che sia, e dire, attaccami. Ma attaccami nel senso, attaccami, cioè, non con lo tsuki, non con una cosa già programmata, ma a te attaccami, così io faccio vedere a tutti gli altri cosa so fare. Ecco, secondo me, se trovate un personaggio del genere, è un buon maestro, è uno che sa il fatto suo. Se vedete, sempre i suoi di tiz, allora attacca così, quello fa così, e l'altro fa tutta la birroletta, ci gira intorno, diventa il superman della giornata, ma sì, ma probabilmente, è uno che sa il fatto suo, non voglio dire chiaramente, non sa quello che bisogna fare, però il tori, cioè colui che attacca, è compiacente, quindi sta fermo lì, fa solo quella tecnica lì, e l'altro lo mena, e vabbè, e siamo tutti contenti. E invece c'è un'altra zona, che voglio affrontare oggi, un altro argomento, che è la zona di comfort. Vai! Allora ragazzi, la zona di comfort, la zona di comfort, è un mio cavallo di battaglia, perché è un argomento, che tiro sempre, abbastanza, spesso fuori, durante le mie lezioni, o quando sto facendo, delle spiegazioni, più che altro, quando viene qualche cintura nera, a trovarmi in palestra, gli spiego un po', il mio modo di pensare, chiaramente, ognuno c'è il suo, e fate bene, se avete il vostro, a mandarlo avanti, per l'amor di Dio. Io vi do le mie idee, se no non farei questi video. La zona di comfort, sì ragazzi, la zona di comfort, cioè, allora, noi ci alleniamo col karate, più che altro in Italia, siamo tutti shotokanisti, anche io lo faccio, faccio anche altre cose, però, di solito, siamo tutti un po' dello shotokan, e chiaramente, quando ci alleniamo, cioè, parliamo la stessa lingua, cioè, quello mi attacco lo tsuki, il magheri, il jakutsuki, il rakken, ushiro mawashi, mawashi, tatatata, io riattacco con lui, sempre le solite cose, e insieme, facciamo, cioè, parliamo la stessa lingua, facciamo sempre le solite cose, e diventa come un gioco a puzzle, di incastri, voi lo sapete meglio di me, il comitè, no, l'unione di mani, quindi, io faccio una cosa, te ne fai un'altra, e facciamo le stesse cose, parliamo la stessa lingua, due italiani che si incontrano, si capiscono, parlano la stessa lingua, ma, oggi voglio raccontarvi questa cosa qua, avete mai provato, avete mai pensato, di uscire dalla vostra zona di comfort, cioè, non avere sempre davanti, il classico soggetto, che tira sempre le solite cose, che voi chiaramente conoscete, al di là se le tira bene, benissimo, meglio di voi, che chiaramente bisogna sempre migliorare, bla 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 bla, ok, ma se sto tizio che avete davanti, non usa il karate, lasciamo stare i soliti discorsi, è meglio il karate, è meglio il kung fu, è meglio questo, è meglio quello, che si sono cavolate, ma diciamo uno che, boh, non lo so, attacca, attacca, potrebbe essere anche il giardiniere, che si è incavolato, viene di qui, piglia un forcone, me lo tira in testa, attacca, attacca con una serie a mano, con un bastone, un cazzottone da scaricatore di porto, Mario è più grosso di voi, 30 kg, ci avete mai pensato, se uscite, se provate a uscire, dalla vostra zona di comfort, cioè, ricevere degli attacchi immediati, diversi, diversi, non dico, magari più forti, o più esperti, o di altre arti marziali, ma diversi, da quello che fate sempre, avete mai pensato a questa cosa qui, cioè, secondo voi, faccio un momento in risata, non è che voglio, voglio farvi dei pensieri, però, secondo voi, ma ce la fareste, cioè, riuscireste col vostro fare, a tamponare qualcuno, che non parla la vostra lingua, cioè, come se noi parliamo sempre, tra noi, italiano, qua arriva un giorno, arriva un francese, inizia a parlare francese, ah, tutti e due parliamo, ma non ci capiamo, perché lui ha un metodo, io ha un altro metodo, abbiamo due lingue diverse, quindi, ce la facciamo a capirci, quindi, il messaggio che vi voglio dire oggi, al di là del che è compiacente, è anche della zona di comfort, cioè, questi due modi, secondo me, vanno un po' a braccetto, non sempre il solito tipo, che vi tira sempre la solita tecnica, e sta fermo lì, come un rimbambito, e l'altro fa il superman, e poi, un'altra cosa, è un altro che tira, ma non tira, il classico attacco da karate, magari vi tira qualcos'altro, qualcos'altro anche proprio di impensabile, quindi, se usciamo dalla zona di comfort, se uscite dalla zona di comfort, se usciamo, mi ci metto dentro anch'io, ce la facciamo, questa è un'altra domanda, che mi ha scritto, un mio caro amico, che mi segue da diverso tempo, il mio follower, e mi dice, mi scrive, mi ha scritto, Massimo, ma, da sentire, ma, uscire dalla zona di comfort, è possibile, e siccome io ho già un po' di tempo, che ci penso a sta storia qua, non è facile, esempio, ho un mio caro amico, che è un pugile, e, scherzando, e ridendo, qualche volta ci si incontra, e facciamo due cavolate insieme, e vi devo dire che, non è facile, non è che noi, karateka, ci mettiamo le mani tra i capelli, io, magari no, perché non ce l'ho neanche, ma, vi dico che non è una passeggiata, perché, chiaramente, il pugile, lo saprete meglio di me, sta in guardia corta, tira il braccio, non sta così, come un rimbambito, ma, tira, leva, tira, leva, fa il bobling, cioè, si muove in maniera diversa, da come stiamo noi, abbastanza fermi, così, quindi, non parliamo la stessa lingua, è un problema un po' per loro, è un problema un po' per noi, chiaramente noi si usano anche i calci, loro no, insomma, quindi, non è facile, non è facile, e questo argomento mi ha portato a riflettere su questa cosa qua, quindi, secondo me, per un miglioramento continuo, individuale, bisogna, secondo me, il mio piccolo parere, è uscire ogni tanto dalla propria zona di comfort, e provare a fare qualcosina di diverso con qualcuno che parla un'altra lingua, allora, forse vi potete mettere, in competizione, in ballo, e vedere cosa succede, non so se avete mai provato, scrivetelo, fatemelo sapere, uscite da zona di comfort, provate con qualcuno che, lasciamo stare che sia un marzialista, anche una persona normale, un amico di ciò, ma mi provi a dare un pugno, no, il destro e il sinistro, allora andiamo al discorso di prima, un attacco, fai te, senza ammazzarmi, senza farmi male, e guardiamo cosa succede, vedete che, a meno che non trovate proprio un rimbambito, un po' malcapitato, mezzo addormentato, non è facile, e poi ci dovete mettere anche la componente situazionale, cioè la rabbia, cioè se sei un tramicio, eh, ti rompuglio, eh, vabbè, trovi uno arrabbiato, cambia il discorso, uno determinato, uno umare che ti vuole fare fuori, quindi cambia, 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 quindi uscire dalla zona di comfort, per cercare di migliorare, di avere un miglioramento continuo, questo è il mio messaggio di oggi, e poi basta, con sto tori compiacente, che veramente, non si può più vedere, se è una cosa didattica, va bene, perché, chiaro, no, facciamo il fermo in magia, a questo punto ragazzi, ce la far così cos'ha, va benissimo, però a vedere sempre, sti super maestro, che fai, si sta ad ambarare, Watsuki, oppure il Magherita, tira il mio Wawashi, guarda qui, guarda che è su bravo, passo sotto, faccio la pirouette, sì, vabbè, bravo, ok, bisogna saperlo fare, ma è che è troppo facile, perché si sa, uno cosa attacca, vorrei vedere, se uno dice, allora, tirami destro, invece, all'improvviso, tirate del sinistro, ma io ho visto, in alcuni allenamenti, specialmente col bastone, fare anche delle figurette, non da poco, cioè il classico tipo, allora, te attaccami col bastone così, e invece, poi magari, c'è davanti, tipo un po' scemotto, scemotto, un po', non sta tanto alle regole, magari, quello invece di far così, se hai caricato il bastone, che bisogna caricare, ti hai andato vicino, poi, e dopo che si fa, non riesci a parare, non riesci a parare, ne ho viste in diretta, un po' di figuracce, quindi usciamo alla zona di comfort, ragazzi, che è meglio, vai, andiamo in finale. Amici del tempo, il finale non c'è, non c'è, perché ve l'ho raccontato finora, cosa dovete, cosa secondo me, sarebbe meglio fare, quindi, basta, torino in compiacenti, uscite dalla zona di comfort, e provate ad avere, un po', un bagaglio mentale, un pochino di fede, un pochino più ampio, nel senso, studiate quello che dovete studiare, perché bisogna saperlo fare bene, il karate, nei minimi dettagli, sia kataki, o hongi te, tutto quello che bisogna sapere, ma secondo me, a un certo punto, bisogna un po' evolvere, uscire un po' fuori dal seminato, non troppo, se no, perdete troppo il do, ma, non so, guardarvi un po' intorno, scrivete il mio canale, lasciate un like, un commento, fatemi sapere, ma la zona di comfort è vostra, qual è? Il divano? No dai, ciao, ciao dal Tempio Massimo.